Ciao a tutti ragazzi sono Donnelly Wolf e benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale. Sono qui ragazzi per spiegarvi come trovare un baule super magico piuttosto che un baule leggendario al 100%. Nel video infatti di venerdì vi avevo detto che se spollicciavate come dei pazzi vi avrei portato appunto questo video. E dunque eccoci qua. Ma voi direte come fai? Sarà una cazzata? Un bug? Un glitch? Bla bla bla? Ma no ragazzi sapete il ciclo dei bauli che si è sempre detto che il baule leggendario e il baule super magico occupano delle posizioni random nel ciclo dei bauli, dei 500 bauli. E invece ragazzi hanno una posizione precisa. Come vedete dallo screen ragazzi su Stats Royale questo sito che chiaramente vi lascio in descrizione dove chiaramente dovete mettere il vostro tag del vostro profilo. Vi tira fuori tutto quanto. Non è aggiornato in tempo reale perché io questo baule argento e questo baule oro successivo li ho già vinti. Dunque mi mancherebbero quattro baule argento, il baule gigante, un altro baule argento ragazzi e il baule leggendario sempre se questa cosa è veritiera. Chiaramente ragazzi vi taglierò tutte le partite perché si sa che quando ti deve uscire un baule importante e imponente che dà delle hit importanti quando lo apri ti tendi a perdere tantissimo. Quindi vi lascerò soltanto il taglio del baule vinto quindi per fare il conteggio insieme a voi e successivamente pregando Dio e la Madonna che mi escano appunto il gigante che potrebbe uscire perché da ciclo si sa quando esce ma soprattutto che esca il baule leggendario anche per farvelo vedere come dimostrazione. Ok ragazzi mancano più o meno 20 secondi forse ce la possiamo fare a vincere. Quante coppe, quanti trofei che ho perso ragazzi e dunque questo dovrebbe essere il baule gigante. Manca pochissimo ragazzi aspettiamo speriamo che questo golem non arrivi sotto torre. 3 secondi vai vai 2 1 attenzione attenzione cosa abbiamo vinto Dio dimmi subito il baule che ho vinto dovrebbe essere il gigante dimmi che è gigante. Attenzione sì 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 è gigante perfetto no batteria no no batteria non scherzare. Quindi ragazzi adesso ci manca solo un altro baule argento e dopo avremo l'altro baule leggendario. Ok ragazzi il baule argento l'ho vinto l'ho vinto quindi c'era c'era lui adesso siamo contro un domatore mamma mia che dega che mi sta facendo penare però abbiamo 600 punti vita la sua torre tira e in questo momento 800 la mia. Se vinco questa battaglia ragazzi 10 secondi per la verità ci dovrebbe essere il baule leggendario. Mancano 7 secondi mi sta countenando il mondo con strutture e moschettiere e tutto quanto ragazzi anche il tronco dai dagli la hit dagli la hit boom 384 ragazzi dai 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 fireball 47. Attenzione che ho vinto attenzione che ho vinto dai sgarrettino perfetto l'abbiamo vinta. Vediamo il baule che ci dà io spero di tutto quale che sia il leggendario. Si cazzo si 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 ragazzi è il baule leggendario. Dunque ragazzi questa dimostrazione che stats royale funziona quindi quello che vedete voi è realmente il ciclo dei bauli leggendari e super magici. Io spero che vi sia d'aiuto questa cosa anche perché potete vedere le statistiche potete vedere tutto quello che c'è da sapere su un profilo di clash royale. Non è aggiunto in tempo reale quindi in base all'ultima partita che avete vinto o perso dovete capire quanti bauli in più avete vinto. Quanto è fiero quanto è fiero questo baule ragazzi quanto è fiero anzi spollicciate se volete vedere il chest opening leggendario. Inoltre ragazzi sto preparando il prossimo zitti tutti scrivete nei commenti secondo voi chi sarà l'ospite speciale di questo terzo episodio. Chiaramente se avete anche delle domande ragazzi ponetemi le vostre domande che girerò chiaramente al top player di turno. Pensavate che mi fossi scordato dei commenti leggendari ragazzi voi pensavate davvero che io mi fossi dimenticato di questi commenti? Sì sì mi ero dimenticato. No non è vero mi ero dimenticato dunque ragazzi la prima persona che saluto è Rocco tanta minchia si freddi che scrive hashtag commento leggendario. Ma mi sono sempre chiesto se metto della panna su un vetro sia panna? E poi saluto Leonardo Forti che scrive hashtag commento leggendario un me la marcia l'altra corre. Mela marcia marcia corsa. E poi saluto Zeta Nico che scrive hashtag commento leggendario se studio in aereo imparo al volo. E poi saluto questa è stupenda saluto Pierzio che scrive hashtag commento leggendario sai chi è l'uomo più furbo del mondo? L'inventore della supposta perché l'ha messa nel culo a tutti. Il ragionamento il ragionamento è abbastanza logico e poi saluto Andrea Salvi che scrive hashtag commento leggendario ma se un postino cade e si rompe un braccio è una frattura con posta? Poi saluto Sassi e Marti Gaming che scrivono ma se drogo i compiti sono fatti? E poi saluto Dario che scrive hashtag commento leggendario ma se sto male e mi faccio un video mi riprendo? Zio porco ragazzi voi avete una fantasia che non sta nemmeno dentro. Dunque ragazzi se volete essere salutati in un prossimo video dovete commentare con l'hashtag commento leggendario e dare sfogo a tutta la vostra ignoranza e condividere il video. Dunque ragazzi per questo video tutto noi ci vediamo al prossimo vi ricordo di lasciare un bel like condividere il video e iscrivervi al canale se non so che cazzo sto dicendo e ciao!